Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89, siamo tornati su Dragoball Xenoverse 2 Signori, come potete vedere, partiamo subito belli cagliardi Ho cambiato costume, questo influisce un po' sulle nostre caratteristiche Ma non stiamo messi male Se io vado su personalizza e miglioro gli attributi Dato che questo costume mi dà un sacco di salute massima e un sacco di vigore Ma mi butta giù, mi sembra, gli attacchi base e i supercolpi A questo punto io farei così per equilibrare un attimo Siamo di livello 31 e ci stiamo dando giù Seriamente pesante, pesante, pesante Il fatto dei maestri è davvero carina come cosa Mi si è bloccata la webcam E lo so regà, ogni tanto mi si blocca la webcam Non dipende da me, non so il perché, me lo faccia È un difetto che c'ha sto PC Io ho il PC nuovo che però a quanto pare me l'hanno fatto col culo O probabilmente c'è qualche conflitto che io non so Però se ogni tanto si blocca la webcam Regà, pazienza, passiamoci sopra L'importante è che non si blocca il gameplay o l'audio Vabbè, poi vi dovrei spiegare altre cose che non vi spiego Perché sti cazzi Allora, era 780 Chi cazzo è? Quelle cose Addirittura la cazzine, regà Addirittura la cazzine cartone animato Tipo Ma toh, che figo, regà Fatemi un cartone animato così, vi prego Regà, ma che figo è Qua, regà, se non parlo Probabile mi danno un copyright incredibile Ma però, vabbè, questo è un pezzo di un film Sicuro me lo Guardate, non voglio far cazzare Ditemi voi, eh Perché secondo me è un pezzo di qualche film Mi sembra strano che ci sia una computer grafica così E se è quello il film Che film, eh Che me lo voglio vedere Babba via Babba via E che cazzo era? Oh, bellissimo Ok Lì, sostanzialmente Mi sa che qua abbiamo già cambiato Abbiamo cambiato storia Vabbè Era divertente finché non c'era lui Poi, vabbè, basta Ok Praticamente ci stiamo andando noi Perché la storia sta cambiando Quindi noi dobbiamo farla continuare Odio lo schermo Quando è sporco Che poi il mio Devo dirlo Fa abbastanza cagare Lo dovrei pulire Però non c'ho il prodotto E quindi niente Divento bianchissimo Guarda Ok Era 780 Dai, è Gohan Che vai a finire male Male, 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 male Male, male, male C16 Che capelli strani però Per la speranza Gohan Guerriero Futuro D'accordo Vai, vai Lo voglio Aia Lo voglio scartametra Senti, sai che c'è? Dov'è? Carica di energia Vai, ah Voi due fate Mori vengo subito, eh È un po' lenta Rispetto all'altro gioco Ma ci sta in realtà anche Ci sta in realtà anche Vai così Vieni, vieni Perché non me l'ha seguito Lo stronzo? Seguilo Oh Lo devi seguire Vai Vai così Oh, bastardo Aia, aia, aia Aia, mi rompe il culo A tantissimo La ciotola Come, 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 come Cazzo Eh, colpo di raggio maligno Che sarebbe Regà, questo fa male Non è tanto ora Per provare I nuovi attacchi, eh Mortacci State a vedere quanto Forte, regà Oh Ma come fai? Ma che cazzo sei, oh Oh E alla fine ce l'hai fatta Naffacculo Allora Lo devo colpire malamente Ragazzi Faccio così Che con questo So di fargli Malissimo Ok Se magari ti carichi Aia Era necessario Era necessario Non credo Regà, io me ne posso Approfittare tantissimo Quando è così Cioè, sti cazzi Eh Posso fare Posso fare Eh Fraffica, energia, maxi potenza Voglio fare questa No, perché questa? No, no Mi sono sbagliato Allora, in realtà Volevo fare questa qua Uh, che figata pure la sua Non gli ho fatto niente Quindi mi sa che questa qua Non è che sia tutta sta grandissima Aia Tutta sta grandissima cosa Sapete, regà Secondo me, eh Uh Me l'ha parata tantissimo Aia È fortissimo È fortissimo Mortacci, regà Le pizze Eh, mica sono forno a legna Oh Eh Fa un culo, va Eh, no Io l'ho fatto Io l'ho fatto troppo tardi Ma non ce voglio crede Oh, regà Incomincia a essere tosta, eh Va bene, va bene Poi vabbè che sto sbagliando anch'io Delle cose Però ci sta Infine No, quella messa Che la devo togliere Era tanto figa Ma tanto inutile, regà Vabbè, non la uso Cioè, non è che sia questo L'importante Babba via Ah, questo ci pia un sacco De mazzate Ma sta sempre qua Sto mirarom Pico Mira, già me stai sulca Poi me Regà, non so Se state notando Quante pizze Ci sto prendendo Ok Perfetto Arrivo, mira Eh, però Se me lo fai volare tu Io non posso Vai così Regà Potrei anche curarmi Ma non voglio Per il momento, eh Vai così Quanti danni Questa super mossa Ragazzi Quanti danni Annaglia la puttana Sono riuscito a annammene Forse Ma che ho fatto Culo Tutto culo Ok Quindi adesso siamo Tre contro uno Va bene Mi sembra più che Egua la cosa C'ha fatto Non so Non so Non so Non so Nel dubbio Potrei fare cacchi Ma non resisto Ma era meglio Che mi faccio Cacchi Ma ho detto Sei una merda Sei un uomo Orribile Senti Io intanto Ti prende con me O posso Con me Con me Con me Non ho vigore Non ho vigore Mannaglia Mannaglia Meno male Che mi ha allisciato Regà Ah perché C'ho la Cameca Devastante Kaioken Vai Bene Non mi ha fatto Fa il Kaioken L'avete visto tutti Ora che dovrei fare io Quanti video Faccio pinta Di essere morto Tipo con l'orsi Regà Mamma mia Regà Alzati Prenditi questa Così almeno Ci potremmo prendere Qualche pizza In più Se magari Stai al cazzo Ma mira Mirate questo Ma che davvero Ma va bene tutto Però Eh poi rompe le palle Così Eh Eh Ok Ragazzi Se lo prendete voi Ne fareste Un grandissimo Ma un grandissimo Favore Vabbè Io l'ho fatta In testa Forse ho esagerato Ma Ci sta Ci sta Da dietro le spalle Ci sta Ce l'ho fatto Ho fatto pure la conclusione Suprema In realtà Quindi Ah va bene Ci sta Va bene E se ne va E se ne va Signori Attenzione Non puoi cambiare Il futuro Madore Rega rega C'ho i brividi Madore 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 Mamma mia Che bello Che bello È questo È questo Quello Che mi piace È questo Quello Che mi piace No quelle Parlate di merda Con quel vecchio Di merda Con quella rosa Là Ma mica Peccatieri Perché non sono Belle Queste Chi se ne frega Ma sì Me la son cavata Tua madre È bella Tua sorella Ancora di più Ma sì Ma sì Niente Discorsi inutili Che secondo me Non danno niente in più A una scena che abbiamo visto In questo momento Quei discorsi Non servono a niente Secondo me Secondo me Non servono a niente Signori Sentite Io sto a 43 minuti Di registrazione Non vorrei che questo video Venisse un po' Troppo corto Ma potrebbe succedere Potrebbe succedere Però Abbiamo chiuso Questa pergamena Cioè avete capito No quindi Boh Direi che va bene così Io una cosa Che voglio cambiare È perché Questo Io me lo trovo Molto meglio Io quello là Me lo trovo Molto meglio Eh Allora 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 Io la carica La tolgo E la metto La scossa Qua Ci voglio Rimettere La carica E qua Ci metto Anche se Non la uso Mai La came came Quindi con cerchio Adesso Came came A Con E vedi che là Sono stronzo Perché non con quadrato A me piace farlo con X Eh Regà Allora 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 Ecco Questo con X Came came A Con cerchio Con quadrato Che avevamo messo Io non mi ricordo più Perché Un'altra Came came A È È inutile Potrei Potrei mettere Potrei mettere Sapete che non lo so Perché Potrei mettere Potrei mettere Potrei mettere Il chiesan Vabbè Io metterei Così Io per il momento Lascerei queste E vedremo un attimo Insieme Come migliorarle Come Come fare Tutto quanto Signori Io direi che L'appuntamento di oggi Può fine qua Io probabilmente Me la continuo a registrare Perché mi sono preso Molto bene Al prossimo appuntamento Col vostro Di Cicco Pro 89 Cliccate sulla scherina Di un altro video Che è apparsa qua vicino Non ve ne pentirete Seriamente Bella